La noia nel pensiero e nella produzione leopardiana. Terminiamo, facciamo l'ultima lezione su Leopardi, riflettendo su questo concetto importantissimo per capire la produzione, l'opera dei Leopardi. Attraverso il termine noia e tedio, ecco, dovete sapere, ve lo ricordate, l'abbiamo già detto sin dall'inizio, tante volte Leopardi utilizza termini equivalenti. Spesso sono anche termini appartenenti a registri linguistici diversi, proprio per dimostrare la sua varietà. Abbiamo visto, per esempio, quando abbiamo spiegato, vi ricordate la poesia Il Risorgimento, che usa cor, poi usa cuore, poi usa core, ecco, come varianti dello stesso termine. Così lui usa tedio anche al posto di noia. Bene, una parola che ricorre molto nella produzione leopardiana, sia in poesia, sia in prosa. Attraverso questa parola Leopardi esprime un sentimento ancora più profondo e moderno dello smarrimento dantesco o dell'accidia petrarchesca, che erano ancora inevitabilmente connessi con il loro tempo, quindi con il mondo medievale e quindi con il senso del peccato. Un sentimento, dicevamo, più moderno. La noia, che cos'è? È un disagio inappagabile, una nostalgia profonda, la smania insaziabile di piacere, che getta l'uomo nello sconforto più totale, simile a quanto altri poeti, dopo Leopardi però, rappresenteranno con lo splin, ad esempio Baudelaire, o col male di vivere montale. Eppure, questo profondo dispiacere è ciò che caratterizza il vero uomo e che lo distingue non solo dagli animali, ma anche dagli altri uomini troppo presi dalle faccende e dalle aspirazioni meschine. In certi punti, lo stesso Leopardi arriva a dire che tale stato, questo stato di noia, è comunque preferibile, proprio perché è segno di un desiderio infinito. Ma andiamo adesso a leggere i brani della produzione di Leopardi in cui lui utilizza questo termine, della noia, o quello equivalente del tedio. Intanto per ricominciare leggiamo dei versi tratti dalla canzone ad Angelo Mai quando ebbe trovato i libri di Cicerone della Repubblica. Infatti, Angelo Mai è un grandissimo studioso e Leopardi lo esalta perché ha trovato i primi cinque libri della Repubblica, perché nel Medioevo conoscevano solo il sesto libro del De Repubblica di Cicerone e non conoscevano i primi cinque. Quindi è una scoperta eccezionale questa di Angelo Mai ed è l'occasione per Leopardi di esaltare la cultura, la sapienza. E dice, appunto, in questa poesia, a un certo punto dice «Eppure ci addolora e ci punge meno il male che ci tormenta rispetto alla noia che invece ci affoga». Cioè ci sommerge proprio. Possiamo provare tanti mali, tanti dolori, tante sofferenze, ma questo è qualcosa di, come dire, di ancora più profondo, è ancora più amaro, è ancora più... Cioè è un male totalizzante, è il massimo del male che si può provare. «O te beato a cui fu vita il pianto». Ecco, dicevamo che in questa poesia Leopardi ricorda non solamente, appunto, Cicerone o Angelo Mai, ma anche Petrarca. E riferendosi a Petrarca dice «Beato a cui fu vita il pianto». E si riferisce al continuo dolore di Petrarca. Abbiamo parlato anche prima dell'accidia e del dolore, della sofferenza d'amore che lui esprime nel canzoniere. «Tuttavia Petrarca fu più fortunato perché nel dolore c'è la vita, mentre nella noia che è tipica dei nostri tempi». Abbiamo già sottolineato sin dall'inizio di questa lezione il diverso male di vivere, insomma, che prova l'uomo moderno rispetto all'uomo medievale. Ebbene, in questa noia non c'è più nulla, nessuna consolazione, nessuna prospettiva, ad esempio, eterna. Vi è solamente il nulla. A noi le fasce cinse il fastidio. Il fastidio è il soggetto. Cioè, il fastidio che a questo punto un altro sinonimo della noia, del tedio, ci ha circondato sin da quando siamo nati. Ci cinse le fasce, no? Le fasce con le quali allora si fasciavano appunto i bambini quando non c'erano i pannolini. A noi presso la culla in moto siede e sulla tomba il nulla. Cioè, praticamente, la nostra vita, la vita di noi uomini moderni che abbiamo conosciuto il vero, la verità di come stanno realmente le cose, è segnata sin dall'inizio, sin da quando nasciamo, fino alla fine, la tomba, è segnata da questa noia profonda. Ecco, un altro testo che noi conosciamo, questo invece lo conosciamo, è il testo delle operette morali. Leggiamo due brani tratti da due operette morali. Questa, per esempio, è il dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. In un certo senso anche Torquato Tasso è uno scrittore che ha molto suggestionato Leopardi. Dovete sapere, infatti, che Torquato Tasso era stato incarcerato, imprigionato, perché è considerato pazzo, e poi aveva scritto dei tormenti, delle sofferenze che aveva provato in questa prigionia, durante questa prigionia. Leopardi è talmente colpito da questo che fa un'operetta morale in cui Tasso, che era da solo in questa prigionia, parla col suo genio. In un certo senso Tasso aveva proprio, come dicevamo prima, i blues, cioè dei diavoli dentro, che lo facevano star male. e nel corso di questo dialogo a un certo punto questo genio che parla con Tasso dice veramente per la noia non credo che si debba intendere altro che il desiderio puro della felicità. Ecco, qui arriviamo al cuore della questione. Perché l'uomo prova noia? Perché vuole la felicità, vuole il piacere. Questo piacere è impossibile, ne abbiamo parlato prima anche nel corso dell'interrogazione e quindi automaticamente nasce questa noia inappagabile, inconsolabile, non soddisfatto dal piacere e non offeso apertamente dal dispiacere, l'uomo prova noia. Il qual desiderio non è mai soddisfatto, infatti dice. E il piacere propriamente non si trova, l'abbiamo ricordato anche prima, non esiste il piacere. È solo un desiderio, un sogno che noi abbiamo, ma quello che noi proviamo invece nella vita è altro. sicché la vita umana, per modo di dire, è composta, intessuta, parte di dolore e parte di noia. Quindi, non c'è via di scampo. Noi possiamo provare solamente o dolore, sofferenza, proprio nel senso, ad esempio, quando siamo malati, quando ci capita una disgrazia o la natura, la natura matrigna, imperversa contro di noi, oppure, nelle fasi intermedie, proviamo noia, quindi proviamo fastidio comunque per la vita. Dall'una delle quali passioni non ha riposo se non cadendo nell'altro. Cioè, l'uomo può provare o solo dolore o noia. Riposa il dolore solo nel momento in cui prova noia e viceversa. E questo non è tuo destino particolare, ma comune a tutti gli uomini. Abbiamo detto che Tasso intesse questo dialogo, che è un po' un dialogo con se stesso, se vogliamo, per cercare di capire come mai si sente a disagio in quella situazione, in quella condizione. E il genio gli dice guarda che comunque questa non è una cosa solamente tua, ma è tipica di tutti quanti gli uomini. E Tasso chiede ma che rimedio potrebbe aggiovare contro la noia? E il genio risponde il sonno, l'oppio e il dolore. Sì, è vero. Questo è il più potente di tutti. L'ho già detto prima, dice il genio. O proviamo dolore o proviamo noia. Vuoi trovare rimedio contro la noia? Beh, allora prova dolore. Perché l'uomo mentre patisce non si annoia per niena materia. È talmente preso da questo senso di dolore e dover sopportare, ricordate, l'adrenalina, insomma, situazioni di stress fisico, che non prova noia in quella fase. altrimenti quando non c'è questo stress fisico, questo dolore, questa sofferenza esplicita, allora prova noia. In cambio dico testa medicina, risponde Tasso, io mi accontento di annoiarmi tutta la vita. A questo punto, se proprio devo scegliere fra noia e dolore, allora preferisco la noia. Ma pure la verità delle azioni, delle occupazioni e dei sentimenti, sebbene non ci libera della noia perché ci reca diretto o vero, con tutto ciò la solleva e alleggerisce. Dice comunque, effettivamente, anche lui si rende conto di quello che probabilmente è la nostra esperienza di tutti i giorni. Cioè, quando siamo presi comunque dalle azioni, dalle occupazioni e dai sentimenti, ci sembra che si alleggerisca un po' questo stato di disagio appunto di noia di cui si parlava prima. In un altro dialogo, il dialogo di Plotino e di Porfirio ritorna il tema anche del nostro dialogo di Tristano e di un amico. Cioè, se sia giustificabile il suicidio oppure no. Porfirio ritiene di sì, mentre Plotino no. Se non erro, forse un po' riferendosi alle teorie degli stoici, che giustificavano il suicidio nell'antichità, mentre i neoplatonici no. Porfirio comunque a un certo punto, adesso spero di aver ricordato bene, comunque a un certo punto Porfirio nel dialogo dice ti dirò che questa mia inclinazione e sarebbe appunto l'inclinazione verso il suicidio, cioè la giustificazione del suicidio, il desiderio di porre termine alla propria vita, non procede da alcuna sciagura che mi sia intervenuta, ovvero che aspetti che mi sopraggiunga, cioè io praticamente desidererei suicidarmi non perché mi sia capitata una disgrazia, ma da un fastidio della vita, ecco ancora ritorna quel sinonimo, ricordate noia, tedio, fastidio, da un tedio che io provo così veemente che si assomiglia a dolore e a spasimo, a spasimo, cioè comunque non è una cosa così passeggera, è talmente forte questo tedio, tedio quindi abbiamo detto una variante stilisticamente un pochettino più raffinata di noia o di fastidio, che comunque è forte, è violenta, sto proprio male, no? Da un certo non solamente conoscere, ma vedere, gustare e toccare la vanità di ogni cosa che mi occorre nella giornata, ecco dove è il cuore della noia, cioè io capisco che tutto quello che faccio è inutile, di maniera che non solo l'intelletto mio, ma tutti i sentimenti ancora del corpo sono, per un modo di dire strano, ma accomodato al caso, pieni di questa vanità, cioè mi accorgo che tutto quello che faccio è inutile e qui primieramente non mi potrei dire che questa mia disposizione non sia ragionevole, prova a dimostrarmi caro Plotino che non è razionale questa cosa, è una cosa razionale, se io vedo che tutte le cose che faccio sono inutili faccio bene a pensare di suicidare, sebbene io consentirò facilmente che la di meno è ragionevolissima e nessuna cosa è più ragionevole che la noia, ecco, infatti abbiamo detto che Leopardi è uno dei più grandi filosofi italiani dell'Ottocento, facendo leva su alcuni scritti filosofici, dei filosofi illuministi del Settecento, arriva a questa teoria del piacere, sono i sensisti, i filosofi sensisti, che è proprio la seguente, cioè che i piaceri sono vani e che quindi la noia è qualcosa di dimostrabile insomma, perché è la impossibilità dell'uomo di raggiungere la felicità. Il dolore stesso, parlo di quello dell'animo, per lo più è vano, perché se tu guardi alla causa e alla materia, a considerarla bene, ella è di poca realtà o di nessuna, il simile dico del timore, il simile della speranza, solo la noia la qual nasce sempre dalla vanità delle cose non è mai vanità, non è inganno, mai non è fondata in sul falso. Cioè, dice Porfirio in questo dialogo, diciamo la verità, Porfirio è l'alter ego di Leopardi in questo dialogo, così come il passeggere è l'alter ego di Leopardi nel dialogo di un venditore del Manacchi o di un passeggere, così come Tristano è l'alter ego di Leopardi nel dialogo di Tristano o di un amico. Ebbene, dice, solo la noia non è vanità, tutte e quante le altre cose sono vane, capite? e io dimostro e ho dimostrato anche molto chiaramente che sono vane, cioè che sono inutili. Solo la noia che è il riconoscimento della vanità del tutto non è vana e quindi è vera. E si può dire che essendo tutto l'altro vano alla noia riducasi tutto quanto si riduce a noia e in lei consista, tutto quanto consiste nella noia, quanto la vita degli uomini ha di sostanzievole e di reale è tutto noia. Potremmo dire come una canzone paraprasando una canzone di Franco Califaro. Scusate adesso la banalizzazione. Leggiamo adesso invece un brano bellissimo che insomma sono alcuni versi tratti dal canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Appunto in quella poesia è il pastore che riflette e tra le varie cose su cui riflette riflette anche sulla condizione sua dell'uomo che è diversa rispetto a quella delle pecore che stanno pascolando con lui che lui porta a pascolare. Oh greggia mia che posi oh te beata che la miseria tua credo non sai. Quindi oh mie pecore insomma che riposate riposate all'ombra che adesso avete finito magari di pascolare e vi stendete sul terreno felici voi siete felici perché non conoscete la vostra miseria credo attenzione perché dice credo questo credo comunque è importante significativo perché in un'altra parte della poesia pensa che forse anche le pecore come dire partecipano di questa sorta di dolore di tutti gli esseri viventi quanta invidia ti porto cara greggia mia care pecore io io vi invidio non sol perché da fanno quasi libera vai sei del tutto o quasi del tutto libera da ogni pena abbiamo già detto sottolineiamo comunque questo quasi come prima abbiamo sottolineato il credo con gli stento ogni danno ogni estremo timor subito scordi dal momento che ti dimentichi scordi ogni stento ogni fatica ogni estremo timor ogni paura anche se si è trattato di una paura mortale perché hai rischiato di morire rivolto alla greggia quindi alle pecore beh poi subito dopo te ne dimentichi invece in noi uomini rimane questo senso di no ah ecco avete visto che ho messo come sfondo della nostra slide o come immagine ricorrente Elio Germano che ha interpretato Leopardi nel film Il giovane favoloso di Martone quindi un film forse alcuni di voi l'hanno anche visto ecco sulla vicenda di Leopardi ma più perché giammai tedio non provi ecco perché ti invidio ti invidio perché non provi la noia ecco la noia che è una cosa tipica di noi uomini tu pecora non la senti non la provi quando tu siedi all'ombra sopra l'erbe l'erbe tu sei quieta e contenta tu sei quieta contenta riposata quando ti sdrai all'ombra sopra le erbe e gran parte dell'anno senza noia consumi in questo stato insomma trascorri in quello stato cioè quieta contenta gran parte dell'anno e allora io ti invidio ecco che dicevamo anche all'inizio della nostra spiegazione di come forse gli animali magari condividono tanti dolori anche dell'uomo per esempio l'ostilità della natura però non condividono questa cosa l'uomo prova noia gli animali no ancora nella lettera a Pietro Giordani il suo grande amico vi ricordate il classicista l'intellettuale Pietro Giordani dice sono così stordito dal niente che mi circonda che non so come abbia forza di prendere la penna so neanche come faccio avere la forza di mettermi a scrivere non ho più l'ena di concepire nessun desiderio non ho più nemmeno la forza la voglia di concepire di desiderare qualcosa neanche dell'amore non desidero neanche di morire non perché io la tema in nessun conto io non temo la morte anzi come ha scritto più e più volte abbiamo visto soprattutto nel dialogo di Tristano e di un amico quasi quasi la desiderano ma non vedo più divario tra la morte e questa mia vita cioè io vivo ma è come se se fossi morto già dove non viene più a consolarmi neppure il dolore questa è la prima volta che la noia non solamente mi opprime stanca ma mi affanna e lacera come un dolor gravissimo ancora un dolore ancora più grande del dolore magari fisico che si può provare e sono così spaventato dalla vanità di tutte le cose e della condizione degli uomini morte tutte le passioni come sono spente nell'animo mio che nevo fuori di me considerando che niente anche la mia disperazione quindi sono in una condizione in uno stato tale di morte spirituale che mi sento come fuori da me stesso mi sembra quasi di vedere me stesso in questa condizione e capire che è tutto vano è tutto inutile è tutto nulla anche la mia stessa disperazione oppure nello zibaldione dei pensieri scrive né l'occupazione né il divertimento qualunque non danno veramente agli uomini piacere alcuno ecco qui ancora una volta ribadisce il concetto non c'è niente che possa dare piacere magari ci potrebbe essere qualcosa che ti fa passare il tempo ecco ma non è che comunque sei felice l'uomo non è mai felice non di meno è certo che l'uomo occupato o divertito comunque è manco infelice del disoccupato cioè è meno infelice chi si dà da fare chi si affarna per mille cose chi si impegna per questo o per quest'altro di fatto è meno infelice di quello che invece non ha niente da fare no? è di quello che vive vita uniforme senza distrazione alcuna perché? se né questi né quelli sono punto superori l'uno negli altri nel godimento del piacere che è l'unico bene dell'uomo ah sì abbiamo già visto la teoria del piacere quindi tutti gli uomini desiderano il piacere tutti gli uomini non possono realizzare questo sogno non possono insomma provare questo piacere allora dovrebbero essere tutti uguali allo stesso modo eppure dice ce ne sono alcuni che provano che sono meno infelici perché? si chiede dal momento che tutti abbiamo una sorte comune ciò vuol dire che la vita è per se stessa un male occupata o divertita cioè che si ha una vita impegnata oppure si ha una vita in cui uno si cerca di svagarsi ella si sente o si conosce meno e passa in apparenza più presto e perciò solo gli uomini occupati o divertiti non avendo bene il piacere più degli altri sono però manco infelici e gli uomini disoccupati e non divertiti sono più infelici ecco spiega Leopardi si tratta solo di una questione di coscienza di consapevolezza e quando uno è occupato e quindi in un certo senso si svaga e allora non riflette su quella che è la nostra vera condizione allora diventa meno infelice non perché sia davvero più felice dell'altro ma solo perché meno consapevole infine l'ultimo brano che leggiamo ecco scusate gli ultimi due brani che leggiamo sono un pezzo proprio dal saggio La protesta dei Leopardi di Walter Bini abbiamo già sottolineato più e più volte nelle nostre spiegazioni di come Walter Bini abbia spiegato che Leopardi è quasi eroico titanico soprattutto negli ultimi anni della sua vita quando una volta aver conosciuto una volta che ha conosciuto il vero la verità delle cose si rende conto che in maniera diciamo anche fiera e orgogliosa se vogliamo di questa coscienza di questa consapevolezza occorre occorre battersi contro la natura e dice infatti Walter Bini Leopardi può toccare e rivelare sull'onda della sua delusione storica ed esistenziale i più profondi motivi del nulla della noia angoscia della vita come morte ma mai manca di dare a questi stessi motivi pur così potentemente individuati ed espressi un valore di stimolo all'energia virile dell'uomo alla nobilità del suo coraggio di verità e di resistenza ribelle con delle parole molto più acute Walter Bini ridice quello che ho detto io all'inizio e ho scritto nella seconda slide all'inizio di questa di questa lezione cioè che effettivamente è vero che Leopardi ci parla della vita come noia della vita come morte però nello stesso tempo è come se fosse orgoglioso di questo di questo suo atteggiamento profondamente nobile come appunto la ginestra che si erge contro la forza del vulcano infine nella storia della letteratura italiana di Elio Gioanola un altro studioso e critico straordinario che ha studiato a fondo non solo Leopardi ma in generale la letteratura dell'ottocento del novecento con delle intuizioni geniali ha scritto la verità è difficile e scomoda delle operette le operette morali è quella dell'irrimediabile infelicità umana affermata come condizione ineliminabile verificata in un'ampia fenomenologia di casi mentre ricorrono i temi del dolore della noia della natura della morte del nulla già ampiamente trattati nello zibaldone si tratta di una filosofia elaborata da un soggetto che si pone come unico protagonista romanticamente solo parlavamo infatti di titanismo prima contro il mondo ostile ed il soggetto proietta in termini universali la profonda sofferenza psicologica ecco dicevamo perché è grande è iniziata la letteratura moderna con Leopardi abbiamo già detto prima quando all'inizio vi spiegavo dell'analogia con Baudelaire e Montale indubbiamente esistono precise connessioni tra sistema filosofico elaborato da Leopardi e la sua infelice condizione umana eppure non toglie verità e grandezza la sua opera e constatare che il pensiero riflette da vicino il dato esistenziale perché la sua sofferenza testimonia precocemente l'invivibilità di un mondo consegnato alle presunzioni della ragione della scienza e del progresso come dire sgombriamo il campo da qualsiasi semplificazione cioè lui è così perché non si è sposato perché era era zoppo ci vedeva male ecco no ma lui è riuscito a penetrare in realtà nell'animo umano e ha capito invece tanti tante false illusioni della scienza del progresso poi ce ne siamo resi conti noi dopo tanti anni dopo tanti decenni volevo dire l'umanità si è resa conto di questo il grande tema della noia per esempio trattato soprattutto nel dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare di cui abbiamo letto un brano prima e nel dialogo di Cristoforo Corombo e di Pietro Gutierrez bellissimo quest'altro dialogo un'altra operetta morale in cui Leopardi si sofferma più che altro sulla fase del viaggio di Colombo quando ancora la terra non è raggiunta non è avvistata e quindi in un certo senso anche in quel caso Colombo diventa un esempio di questa noia esistenziale di questa attesa di qualcosa che non arriva mai in quel caso la terra che sembrava non arrivare mai è l'immediato corrispettivo teorico della condizione malinconica caratterizzata appunto dalla caduta di ogni interesse vitale che genera uno stato assimilabile alla morte dalla passività inerte dall'immobilità catatonica ecco la parola catatonica vuol dire un po' quello che diceva anche Leopardi in alcuni brani in precedenza cioè questo lasciarsi andare perdere proprio la vitalità perdere la la capacità di reazione alle cose per cui tu piano piano come si dice decadi ecco in un certo senso piano piano c'è una una dissoluzione insomma in noi si parla ad esempio di catatonia in generale a proposito della vecchiaia tutto ciò determina il larghissimo ricorso alle immagini del deserto del gelo e della morte dalle lettere ai canti fino appunto alle operette morali in cui è così esplicita dice anche gioanola questa consapevolezza iscriviti